Interessante iniziativa per il Verde dei Lions Faentini. Le iniziative che abbiamo presentato a questa conferenza stampa sono tre. La prima è l'inaugurazione del giardino dedicato a Melvin Jones, che avverrà martedì alle 18.45, la presenza del nostro governatore e delle autorità civili e religiose. Perché il giardino intitolato Melvin Jones? Perché quest'anno il Lions Club Faenza Host compie 60 anni. Quindi il sogno nel cassetto di ogni club è quello di intitolare al proprio fondatore un qualche cosa, un'area verde, una sala, una rotonda. Quindi guardandoci in giro abbiamo chiesto all'amministrazione la possibilità di avere appunto un'area verde da dedicare e l'amministrazione, sulla base anche di questa nostra sempre strettissima collaborazione, ci ha proposto quella che sta fra via Cavour e via Tonducci. Quindi adesso il servizio giardini sta facendo un ottimo lavoro di riqualificazione e questo sarà appunto un'area dedicata al nostro fondatore. L'altra iniziativa sono le magliette al verde, i volontari al verde che le Lions Club hanno voluto acquistare proprio per il servizio giardini, per il servizio ambiente, proprio per dare anche uno stimolo ai volontari, a chi lavora, un riconoscimento al fatto che i Lions sono molto attenti alle tematiche ambientali come lo è il servizio giardini del Comune di Faenza e l'assessorato all'ambiente. Quindi questa è stata un'iniziativa che ci ha portato, direi, una grande soddisfazione. L'altra iniziativa è la ristrutturazione dell'edicola votiva nelle scuole elementari Pirazzini via Marini. L'insegnante Sara Stampa aveva richiesto una semplice riqualificazione, una ripulita a questa edicola votiva. I Lions hanno guardato e hanno pensato invece di poter ristrutturare questo angolo bellissimo della nostra città, dando anche un stimolo ai bambini che hanno fatto una ricerca approfondita su questa edicola. hanno scritto un opuscolo, hanno lavorato, sono le classi prima e seconda A, prima e seconda B, terza e terza A. Quindi l'inaugurazione ci sarà domani a mezzogiorno, alla presenza degli alunni, alla presenza degli insegnanti, del parroco di San Francesco e del sindaco. Come cambia quest'area verde nel parcheggio di Via Cavolo? Cambia nel senso che abbiamo cercato di dare un'identità a quest'area verde che è marginale al parcheggio, creando un percorso che collega i tre ingressi di quest'area verde, una piazzetta, un luogo di incontro, di ritrovo, vicino a un palazzo importante come Palazzo Milzetti, a una posizione così tanto frequentata che è il parcheggio di Via Cavolo. Oltre a questo abbiamo eseguito delle potature alle querce presenti, un risanamento del livello del terreno e nei prossimi giorni saranno messe a dimora anche una cinquantina di piante di rose con altre piante fiorite, in modo da creare ancora un maggiore effetto estetico e quindi cercare di portare la gente ad avere ancora più rispetto per quest'area verde.